L'Ega Ambiente lancia un grido d'allarme per delle politiche da attuare proprio sui nostri territori in modo da ridurre gli effetti di questo cambiamento climatico di Marco. Possiamo dire con estrema freddezza che ci troviamo già in emergenza climatica perché il cambiamento climatico è già in atto e quindi c'è necessità di accelerare con le politiche di mitigazione e adattamento su cui purtroppo a livello nazionale siamo ancora sprovvisti nonostante ci fu un tentativo di imporre una strategia nel 2014 ad oggi non ancora abbiamo un piano concreto che ci permetta di passare dagli studi a quelle che sono le azioni di mitigazione vere e proprie. Questo riscaldamento globale è reale, parliamo di un grado 1 negli ultimi 5 anni di aumento ed è chiaro che dobbiamo accelerare nella messa in campo di quelle che sono le politiche atte a mitigare questo cambiamento climatico. Ovviamente questo significa ripensare soprattutto le nostre città non a caso l'Enea richiama l'attenzione anche su tre bacini nostri quello di Pescara, del Tronto e del Sangro per far sì che tutte le nuove azioni vengano messe in campo in funzione delle buone pratiche europee che esistono questo significa ripensare anche il modo di raccolta delle acque piovane pensare a come mettere in campo azioni di piantumazione degli alberi per ridurre il caldo che comunque si sprigiona soprattutto nelle aree urbane durante l'estate e realtà un po' più complesse di riorganizzazione dei sistemi urbani nostri e territoriali proprio perché attraverso questa azione noi dobbiamo fare in modo che diminiscono anche i danni economici sulla salute delle persone